Abbiamo effettuato questi lavori per la divisione del reparto di rianimazione e diciamo che per l'inizio della settimana i lavori saranno conclusi e questo ci consentirà di avere due percorsi totalmente separati e quindi di risolvere questa criticità nell'attesa poi di intervenire finalmente con la progettualità che abbiamo previsto e che il Ministero ci ha avallato. Dunque questione di ore e una delle emergenze dell'ospedale di Campobasso verrà risolta. Il primo ospedale del Molise, il Centro Hub, non ha al momento la rianimazione per i pazienti no Covid. Al Cardarelli si opera ma poi i pazienti che necessitano di cure specifiche vengono trasferiti altrove, Misernia, Termoli, Gemelli, Molise. Il responsabile della terapia intensiva, il dottore Romeo Flocco, ha chiesto all'ASREM di intervenire. I lavori di separazione della terapia intensiva tra Covid e no Covid sono in dirittura ad arrivo e garantiranno anche l'attività ordinaria, oltre all'assistenza dei pazienti affetti dal coronavirus. Il prossimo step, che non dipende da Toma e Florenzano, ma dal commissario Arcuri, sarà quello di realizzare il Covid Hospital. Il progetto c'è ma è rimasto su carta e da Roma continuano a temporeggiare. Grazie. 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 Grazie.